Sindaco Alessandrini, oggi il Comune di Pescara ha incontrato le associazioni ambientaliste per parlare del progetto 2020-2020, ma per parlare anche del problema della qualità dell'aria Pescara. Già aver portato attorno ad un tavolo tutte le associazioni è stato comunque importante? È emersa forte una richiesta di partecipazione più ampia che si è stesa anche ai sindaci dell'area metropolitana vasta. Noi avevamo il programma di vederli il 24 di questo mese, naturalmente perché è chiaro che queste politiche hanno necessità di raccordi territoriali. Poi ci sono tante cose che si possono fare, piccole cose dal nostro stile di vita, a grandi cose, e cioè penso alla mobilità in primo luogo che incide su questo, si può agire dalla sostituzione delle caldaie all'efficientamento energetico degli edifici, a cominciare dagli edifici pubblici, da questo edificio e dalle scuole. Pescara Gas svolgerà un lavoro importante con un investimento di un milione e mezzo nelle scuole di Pescara. E oggi di questo e delle prospettive abbiamo parlato con appunto la piena consapevolezza che la questione ambientale centrale ci riguarda tutti. Un punto importante è anche quello dell'utilizzo dei mezzi pubblici a Pescara. Noi abbiamo, diciamo, di pari passo con le domeniche ecologiche, previsto sino a marzo questa possibilità, cioè il sabato e la domenica si circola nel trasporto pubblico dell'area vasta con un biglietto unico, costa 1,30 euro, dura tutta la giornata e si può andare ovunque. La riflessione vogliamo estenderla più ampiamente al servizio pubblico di trasporto, che va reso certamente più efficiente, però bisogna sempre cominciare, e questa è un'azione concreta, è un dato di fatto e rappresenta un'opportunità ulteriore per appunto prendere il mezzo pubblico e lasciare la macchina in garage.